Ciao a tutti ragazzi, rieccoci, oggi andiamo in un posto fantastico che ho deciso io per portarci Camilla e sarà un posto super divertente, la stiamo andando a prendere all'asilo e il papà ancora non sa bene Io so il luogo ma non so che si fa, cioè, che ne so che combiniamo oggi Lo scoprirete, lo scoprirete presto, ma prima di tutto, prima di scoprirlo, mettete il like al video e iscrivetevi al canale Mi raccomando, fate questa campanellina, dìglielo alla CIA, dìglielo alla tua sorella, a tuo fratello, a tua madre Dai, a dopo Ciao Mamma, 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 e papà? Prendi papà Dove siamo papà? Quanto cavolo stiamo? Eccoli, eh, che strano Mamma mia Oh, ora un po' Camilla Cucu Guarda su, mamma, guarda lì Ah, pure su, guarda un po' Su Mamma mia, mamma, che cosa strana Bello Dove siamo? Mi piace, cosa? Mi piace, cosa? Mamma mia, papà, guarda Mamma mia, papà, guarda Mamma mia, vai qua, vieni qua, vieni qua, mamma Guarda, oh, oh Oh Oh, 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 oh I cuscini, dì la cuscina a mamma No, 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 no E Camilla? Corri, corri, papà, corri, corri Oh, 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 oh Sì, dopo appà Corri, corri, corri Oh, 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 oh Allora, basta, ora, papà Oh, 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 oh Guarda, mamma, corri, 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 corri ti piace papà? mamma mia che posto amori? clamoroso ancora tanto mamilla guarda là che c'è mamma mia come fanno così? andiamo a prendere mamma andiamo a prendere mamma dove sta papà? dove è papà? eccolo dove è papà? eccolo dove dobbiamo andare adesso? lì vediamo un po' oh mamma mia wow ma dove siamo qua? mamma mia ma che è la cabina armadio de mamma? questi ce li possiamo mettere oh subito te ti piace papà? mamma mia le scarpette? bello quindi abbiamo degli specchi molti specchi dei portaoggetti portaoggetti specchi poltrone mamma mia ragazzi mamma mia tutto rosa tutto rosa ma dove siamo qua? ho visto mamma che bel posto? cammina vieni qui il posto più divertente di roma ragazzi è qui mamma mia qua è tutto blu qua è la ah io mi metto sulla vasca qua è la questa che c'è da quando ci divertiamo bestia ragazzi vediamo uno scoop anticipazione no no non glielo facciamo vedere non glielo facciamo vedere dai che scivola? dove arrivi lì? arrivi lì dentro? eh certo pronta? 1 2 3 2 3 4 5 eccolo chi si arse più qua? 6 8 8 8 9 10 non si vede Camilla sa per te non si vede non si vede ma non ti vedi ti posso lanciare per l'aria qua? no è capace che trovavo un buco vuoto senza palline una, l'altra aiuta due salami due salamini tiriamo le palline a papà c'è la pallina a papà adesso nascondiamo Camilla porca no nascondiamo Camilla dov'è Camilla? dov'è Camilla? senta senta dov'è Camilla? dai non puoi fuori ora oh guarda papà si è scato papà delle palline ma dove sta papà? dov'è? eccolo eccolo pronta? vai vai dio santo ciao Camilla papà se ne va in un'altra stanza io e' Camilla io e' Camilla Funzia papà blu oh lo vuoi? mamma no però a casa voglio qui? che si scrive mamma? che si scrive mamma? Camilla è stata qui Camilla è stata qui e che scrive? che bulla mamma mia è proprio bella e Camilla guarda che bello bello wow mamma mia questa è proprio bella pure 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 papà che si scrive? papà ti amo tanto e mamma poco come dici? poco mamma mia che stanza ragazzi clamorosa in pratica questa è una stanza in cui si può scrivere ovunque quindi i pennarelli che ti danno le ragazze e scrivi dove vuoi incredibile è un labirinto mamma è un labirinto prima di entrare pensa a come un cinema mamma mia se perdiamo per qua è un attimo di qua di là di su e di giù di qua di là di su e di giù ed andiamo andiamo qua ma c'è chiudimi subito come si spuglia ciao ciao papà te ne va ciao richiudimi subito diventa sarai più fortunato camilla camilla eccolo ragazzi siamo usciti eh saremmo persi saremmo persi saremmo persi come qua ci fa ping pong mamma mia che tavolone mamma mia ragazzi qui la palla pure vietato non giocare e noi non giochiamo i camilla buttala lì dentro eh la fai vai dentro ho fatto no riprova vai vai canestro braaaaaaaaaaaa wow si guarda vi chiamo vi porto delle arance si da quanti chili d'arancia 10 chili d'arancia va bene ciao ciao dove sta papà che ti fa papà valla a svegliare guardala che c'è mamma mia che roba qua è finita mamma mia cucù che bello ciao ciao camilla camilla cerca papà eccoci qua eh bellissimo ve lo consigliamo un sacco per i bambini è un posto fantastico solo che leggevo che forse chiude a giugno se non sbaglio quindi brigatevi perché è proprio divertente sia per i piccoli che per i grandi bello 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 è bellissimo veramente bellissimo mi sto divertito pure io veramente ho studato un pochetto però io ero sicura che mi piacesse mamma mia mi sto divertito veramente come i bambini torniamo tutti un po' bimbi qui e niente allora ci vediamo nel prossimo video mi raccomando ragazzi seguiteci mettete sta benedetta campanellina se cliccate like fate tutto mi raccomando eh ciao ecco per farvi capire che camilla se n'era ritornata indietro ecco qui come l'ha raccattata la madre eccola qui ecco qui Grazie.